Silvia Rossi, 21 anni, di Colle Brianza, eccola la nostra Miss Curvi. Per noi è già vinto, intanto però domenica partirai per le preselezioni di Miss Italia a Jesolo e ci sarà una selezione finale. Intanto ce l'hai fatta? Sì, infatti ce l'ho fatta e sono contentissima, grazie a tutta la gente che mi ha votata e mi ha permesso di arrivare fino qua. Che cosa accadrà? Domenica parti per Jesolo e poi? E poi ci sarà una sfilata a Jesolo il giorno stesso dove verranno anche i miei genitori a vedermi, il mio ragazzo e poi il 28 si sapranno le 30 finaliste, c'è un giorno tutto intero di selezioni e poi martedì appunto si saprà se sono passata oppure no. C'è una categoria speciale quella Curvi oppure sarete tutte in gara insieme a questo punto? No, gareggeremo tutte insieme questa volta, saremo 220 ragazze totali. Miss Curvi, una persona si immagina qualcuno con tante curve, tu in realtà sei una ragazzina acqua e sapone, assolutamente bellissima. Sì, in effetti non sono una ragazza con tantissime curve, però appunto il mio problema è l'altezza e quindi sono appunto passata in questa categoria e poi anche perché non sono magrissima, ho anche le mie curvette, le nascondo. Perché hai deciso di partecipare? Ho deciso perché è un sogno che ho da sempre e quindi mettermi anche in gioco è stato un modo per andare magari anche oltre gli stereotipi che hanno la gente e se è già arrivata fino qua secondo me è già una battaglia per quelle tutte ragazze che si sentono belle ma però non sono alte e quindi che non osano partecipare a questi concorsi. Tu sei un metro e sessantadue, insomma non sei bassa, abbattiamo le barriere di questi stereotipi. Sì esatto, anche quello infatti che mi incoraggia perché è stata fino a qua che i giudici magari hanno visto qualcosa in più oltre i miei metri di altezza che non ho. Che cosa ti aspetti da questa esperienza? In qualsiasi modo poi debba andare. Beh è un'esperienza unica perché saremmo tutti insieme in questo villaggio, quindi sarebbe un'esperienza che non dimenticherò mai e comunque vada mi porterò per sempre appunto questo sogno che ho iniziato a rincorrere sempre con me e spero di riuscire a passare i 30 finalisti, so che sarà difficilissimo però ce la metterò tutta. Fin da bambina seguivi Miss Italia e adesso ci sei, sei tu la protagonista? Sì esatto, infatti per me è un sogno viverlo questo. Sì è un po' di tornare bambina, di tornare sul divano a riguardare la trasmissione però vedi il mare catapultata a me, in quelle ragazze che mi ci vedevo 20 anni fa.